Non sarebbero state sufficienti le piogge di questi giorni a colmare la lacuna lasciata da mesi di siccità che hanno investito il nostro paese. Prosegue lo stato di crisi idrica anche nel territorio veneto almeno fino al 15 luglio, a dirlo la regione con un'ordinanza che stabilisce la riduzione dei prelievi dai fiumi e dai vecini idrografici ma anche la chiusura delle fontane a getto continuo. Il deficit idrico però non è un problema nuovo, da tempo in molti paesi del mondo le tare si sono abbassate a causa della sottigliamento delle falde acquifere. Diego Rosso, professore veronesa all'Irvine University in California, studia da ormai 17 anni i processi di depurazione delle acque perché l'acqua a reflua può essere riutilizzata in vari modi. Il nostro centro di ricerca si occupa del nesso tra acqua, energia e carbonio. Noi guardiamo quella che è proprio l'interfaccia, l'interconnessione tra l'impronte energetica e la purificazione delle acque. Dove abito io si beve l'acqua riciclata e quindi la purificazione dell'acqua è una cosa assolutamente obbligatoria. Ma non sempre la depurazione è conveniente. Capire com'è la minimizzazione dell'energia richiesta per questo trattamento delle acque è assoluta perché altrimenti se l'impronta energetica e ambientale dell'energia richiesta per il trattamento è più elevata che importare acqua con un acquedotto da un'altra parte monetariamente la scelta è abbastanza ovvia. Laddove è possibile purificare l'acqua può portare numerosi benefici. Il potere avere acqua riciclata che sia potabile, il potere avere acqua irrigua che sia con proprietà compatibili con l'irrigazione che si va a fare, che sia per giardini o che sia per coltivazione di ortaggi e con il minimo impatto energetico in termini di energia e di impronte di carbonio. Quindi il minimo costo totale, non solo il costo monetario, ma anche il costo per la manutenzione ambientale.